Ragazzi, non ci posso credere, eppure le torte mi sono sempre piaciute, sì, affondarsi nella panna con volontà e rispetto, ed è lì, ed è proprio lì che si scatenano i sensi, cinque sensi, cinque. La vista, guardare tutto quel ben di Dio tanto che neanche lui se ne era accorto e diventa rosso per la vergogna, udito, sentire se la torta sussulta, miagola, come un gatto sul tetto che miagola, olfatto, annusarla per poi farsi annusare, ed il profumo ti prende, ti alza di peso, ti mette orizzontale, ti fa sorridere, anche più nervosi. Il tatto, massaggiare con i pulpastrelli, ciliegini e frutti canditi, fino a spiaccicarci la mano spalancata, per lasciarci l'impronta spiaccicata. Il gusto, oppalato, mangiare, gustare, con le mani legate dietro alla schiena, per non essere ingordo, fino a consumarla, ingordo, come un gatto sul tetto che ingordo. Ed è con questo senso della vita che io vi abbandono per darvi appuntamento a domani, con la stessa radio, Radio Strega, alla stessa ora, con la stessa voce. Ciao ingordi, vai con la sigla. Se amate la notte, se ascoltate la notte, se annusate la notte, insomma, se non avete il vizio di dormire di notte, beh, allora, ragazzi, ascoltate la vostra unica, irripetibile, inseparabile. Radio Strega. Radio Strega.